A quello che avevo detto di volere come reddito mensile è presto diventato il mio reddito settimanale. Permette di fare pratica leverage. Significa molto per me perché posso stare qui con i miei amici, possiamo connetterci, crescere e imparare molto. Si tratta di trovare la libertà che io e mio marito David stavamo cercando. Ogni tanto arriva qualcosa che cambia il gioco e riscrive la storia. Qualcosa che cambia la vita. Qualcosa che può cambiare la vita. Ecco perché ero così entusiasta quando Ray mi ha trovato. Voglio vivere ora e credo che molte persone vogliono vivere ora nel mezzo della loro vita. Una cosa è vedere le cose accadere da sole e vedere il successo nella propria vita. Un'altra cosa è quando si osserva e si assiste un'altra persona che prende principi comprovati e le applica nella propria vita. E per questo le loro vite cambiano per sempre. Qual è il prossimo grande cambiamento del gioco? La storia inizia su un'isola remota nel gelido circolo polare artico in una struttura nota come la volta del giorno del giudizio. Questa fortezza di montagna custodisce una delle risorse più importanti del futuro dell'umanità. Non si tratta di leader mondiali, segreti militari, ma qualcosa che ha un impatto diretto sulla vostra salute e potenziale prosperità. Questa roccaforte è la banca globale dei semi di Svalbard, un'enorme cassetta di sicurezza che protegge più di un milione di campioni di semi ad una temperatura di meno 18 gradi contro guerre, pandemie e disastri naturali. Poiché i semi sono la fonte, contengono da 20 a 30 volte più sostanze nutritive per parte rispetto alle corrispondenti piante, frutta e verdura in cui crescono. Il dottor Daniel Beckles ha conseguito la laurea in medicina e il dottorato di ricerca ha frequentato una borsa di studio presso la Harvard Medical School, professore aggiunto presso la Texas A&M University, ma è noto soprattutto come chirurgo di trappianti di cuore e polmoni. I semi contengono il nutrimento più denso del pianeta. Un seme contiene da 20 a 30 volte più nutrienti per parte rispetto ai corrispondenti elementi in cui crescono. In termini di frutta e verdura, proteggere i semi è essenziale perché il mondo sta affrontando una crisi sanitaria emergente. La scienza e la medicina avanzano più rapidamente che mai, ma non è sufficiente. Siamo sovralimentati ma malnutriti. L'obesità e le malattie degenerative sono fuori controllo. I cattivi attori come Big Pharma, i produttori di snack e le aziende produttrici di bevande gassate traggono profitto dall'accelerazione di malesseri, malattie e persino dalla morte. La nostra dieta ci sta lentamente uccidendo. Non riceviamo più i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Ora tutto questo è cambiato. Benvenuti nel futuro della nutrizione. Benvenuti in Rain International. Gli scienziati di Rain International sono stati i primi a riconoscere i vantaggi dell'uso dei semi come base per gli integratori alimentari. Scoperta nutrizionale nascosta in bella vista. Queste formule pulite, senza conservanti, dolcificanti artificiali o altri additivi non salutari sono la forma più pura di nutrizione che il corpo possa ricevere. Utilizzando come base il DNA dei semi puri, le formulazioni di Rain offrono una biodisponibilità ottimale, ovvero la percentuale di nutrienti che entrano nell'organismo e hanno un effetto positivo. Amo anche Bright. Sento che mi dà chiarezza e concentrazione e sento subito la differenza. Mi piace gareggiare nell'atletica leggera. Sono stato due volte tra i primi cinque al mondo nella mia fascia d'età 55 anni e oltre. E amo ciò che i prodotti Rain fanno per me, soprattutto Soul e Soul Rain. I miei tempi nella corsa sono migliorati. Prima la mia media era di 5,22. Dopo l'utilizzo del prodotto la mia media è diventata 5,9, 5,5. Ho corso la mia maratona e l'ho finita con 10 minuti di vantaggio rispetto alla precedente. I prestigiosi Brunswick Labs hanno condotto test indipendenti su cellule umane vive e sui prodotti Rain, Core, Soul, Soul Red. Lo studio ha indicato che tutti e tre i prodotti aumentavano l'energia e avevano potenti benefici antiossidanti. In particolare Soul Red ha aumentato l'immunità del 67%, ridotto l'infiammazione cellulare dell'80% e ha aumentato la resistenza dell'invecchiamento del 79%. Sono vecchio, ma sapete una cosa? Mi piace ancora giocare a softball ogni fine settimana. E devo dire che la cosa più bella è che tra tutti i prodotti della linea di Rain, quelli che preferisco sono Soul e Soul Red. Perché danno un effetto antinfiammatorio per i muscoli e per il recupero. Il mio prodotto preferito di Rain è Soul Red. Lo adoro. L'ho amato fin dal primo giorno e mi aiuta ad avere chiarezza ed energia al mattino e ogni volta che ne ho bisogno. Con le notti insonni e tutto il resto. Amo Soul Red. L'urgente necessità di risolvere l'attuale crisi sanitaria globale ha creato una forte opportunità di business per coloro che la cavalcheranno. Milioni di persone stanno affrontando le sfide dei bassi salari, dell'inflazione crescente e dell'aumento del debito. Le generazioni X, Y e Z stanno peggio dei loro genitori. L'economia globale è in crisi in questo momento. Rain offre decisamente l'attività secondaria per guadagnare soldi veri. Vi piacerà far parte di un ecosistema di connessioni, mentorship e di collaborazione dove potrete costruire ricchezza facendo del bene. Ciò che amo di più in Rain è la comunità che stiamo costruendo di imprenditori sociali per andare in giro e dare veramente potere alle persone, per dare loro la possibilità di fare cose che non hanno mai creduto di poter fare. La mia lotta più grande nella vita è stata quella di trovare un equilibrio tra il tempo libero e le finanze sufficienti per poter fare ciò che amo di più, cioè viaggiare per il mondo. Sono una preta professionista e sto iniziando un master in architettura, quindi Rain è l'attività secondaria perfetta per me perché mi permette di creare un reddito continuo per sostenere i miei altri interessi. Mi piace anche il fatto che tutto ciò che faccio aiuta la fondazione Rain. Se vuoi avere un aspetto migliore, avere più energia, raggiungere una salute ottimale, se volete avere l'opportunità di liberarvi dai debiti, di costruirvi un secondo reddito significativo, se volete creare uno stile di vita ideale o un'attività secondaria che porti al mondo questa scoperta rivoluzionaria sulla salute, allora dovete semplicemente dare un'occhiata a Rain. Se siete in grado di usare uno smartphone, di consigliare un prodotto che vi piace o di fare uno spot sui social media, potete sviluppare un'attività redditizia, divertente e significativa con Rain. Siete voi a scegliere quando lavorare e con chi lavorare. Potete farlo nel vostro tempo libero, godere di utili benefici fiscali e sperimentare meravigliose opportunità di viaggio. Gli unici limiti al vostro successo sono le dimensioni dei vostri sogni. Forse la cosa migliore è che, come imprenditori sociali, potete avere successo aiutando altre persone a raggiungere il proprio successo. Ritengo che Rain renda il mondo migliore perché aiuta le famiglie a trascorrere del tempo insieme e voglio aiutare anche altre famiglie a trascorrere del tempo loro figli e con i loro coniugi, a vivere nel mezzo della loro vita e non solo ad aspettare la fine della loro vita. O come la chiamate voi, pensione. Vere l'attività di Rain per me è libertà. Ed è libertà, come ha detto Jim, di fare ciò che vogliamo, quando vogliamo. Vivo lo stile di vita che mi piace, il campeggio, i viaggi con i nostri cani. E ciò ci ha permesso di fare questo, di andare in camper e in diverse parti degli stati e dei paesi, di costruire la nostra attività lì. La nutrizione a base di semi è una categoria di prodotti completamente nuova, quindi il potenziale di crescita è enorme. Questa forte esigenza del mercato vi assicura un'attività e un reddito stabili per molti anni a venire. Con l'attività di Rain si può guadagnare in nove modi diversi. Il fondamento che li unisce è la leva finanziaria, il superpotere per creare ricchezza. La maggior parte delle opzioni di lavoro secondario richiede di scambiare per esempio tempo con denaro. Ma cosa succede quando si è malati? Nel momento in cui si smette di lavorare cessa anche il reddito. Un'attività in Rain vi libera da questa trappola. La capacità di liberare il potere della leva finanziaria è un moltiplicatore di forza per la creazione di ricchezza. Il piano di remunerazione di Rain vi permette di sfruttare l'effetto leva in modi che in passato erano disponibili solo per ultraricchi. Siete in grado di iniziare a guadagnare rapidamente, pur continuando a lavorare part-time e l'opportunità di ottenere grandi ricompense con il lancio di Rain 2.0 in tutto il mondo. Il dono più grande, il più gigantesco, è che io possa essere questa persona che fa sì che le altre persone possano indossare i miei panni o i panni che ero solito indossare. Tutte quelle persone che sono in questo tipo di matrimonio, relazioni, che mi possano vedere come una speranza, come un segno, come, oh mio Dio, se lei ce l'ha fatta posso farcela anch'io. Non deve rimanere spezzata, malconce e ammaccata, non deve rimanere nascosta. Posso usare questa piattaforma come una voce per raggiungere altre persone che potrebbero essere colpite dalla mia storia. Ma credo che le due cose più importanti siano innanzitutto, come prima, il potenziale di reddito illimitato. L'unico limite a reddito che riuscite a costruire con Rain ha la dimensione dei vostri sogni. E probabilmente il vantaggio più importante è il successo che si ottiene aiutando altre persone a raggiungere il successo. È un'attività di empowerment. In quanto Gen Z riteniamo che il settore di Rain sia perfetto perché si può lavorare con le persone che si desidera e si possono stabilire i propri orari. Inoltre c'è la libertà di scelta. Ci piace lavorare insieme. L'essere lontani da un lavoro dalle 9 alle 5 è ciò di cui abbiamo bisogno e quindi si può creare qualcosa da zero e vederlo crescere. Rain ha creato l'infrastruttura di supporto più completa che ci sia. Questo include ogni aspetto dell'attività. Il vostro negozio di e-commerce personalizzato. Un team di supporto aziendale per gestire tutta la logistica. Lo sviluppo dei prodotti. Il servizio clienti. Gli ordini. Il controllo degli inventari. Le spedizioni e le commissioni. Una biblioteca online di moduli di formazione di persona e di eventi di formazione online. Un sistema duplicabile passo dopo passo. Potenti strumenti di marketing. Leader esperti del settore desiderosi di farvi da vento. Questo vi permette di concentrarmi sulla diffusione del messaggio. Sia voi che il vostro team riceverete la formazione, il coaching e il supporto necessari per il successo. Cosa succede quando si iscrivono altre 5 persone nella propria squadra? Voi traete profitto dal volume commissionabile prodotto da queste 5 persone. Vi siete ufficialmente liberati dal modello di scambio tempo-denaro e state iniziando a sfruttare la leva finanziaria. Cosa succede quando queste 5 persone introducono nell'attività 5 imprenditori sociali a loro volta? Avete 30 persone che creano un volume di vendita e quando quei 5 duplicano il processo avete un team di oltre 150 persone che costruiscono l'attività mentre il livello successivo di persone duplica il processo. Ora state sfruttando gli sforzi di quasi 800 persone al livello successivo. La vostra semplice attività da casa ha ora quasi 4000 membri del team che generano un volume commissionabile su cui potete guadagnarci su. Naturalmente alcuni faranno di più altri di meno. Questo per dimostrare come sia possibile scatenare il sistema di duplicazione per costruire una rete di consumo di prodotti in continua espansione e auto perpetuazione per creare una leva temporale e finanziaria per voi stessi. Poiché Rain è affermata e opera in più di 40 paesi potete guadagnare in molti fusi orari anche mentre dormite. Rain International è molto più che una semplice ricompensa personale. Rain mi ha aiutato ad aiutare altre donne perché il mio obiettivo principale è proprio quello di aiutare le donne soprattutto quelle che subiscono violenza. Violenza familiare, violenza religiosa. Donne che non sono ben accettate nel loro ambiente. donne che vengono cresciute con la frase non puoi farlo. Devi restare a casa. Devi solo prenderti cura dei tuoi figli. Oltre a potenziare le persone con l'opportunità di business potete collaborare con Rain nella fondazione Seed for Change. La fondazione aiuta le popolazioni svantaggiate di tutto il mondo a creare sicurezza alimentare e attraverso l'agricoltura rigenerativa. Eh lo capisco. Tutte le persone del mondo hanno bisogno di cibo buono. Sono anche molto orgogliosa della fondazione Seed for Change che dona alle persone che non se lo possono permettere e che pensano di poter essere aiutate ad avere una vita migliore. Se siete alla ricerca della prossima grande novità dovete assolutamente dare un'occhiata a questo prodotto. Stiamo qui perché è giusto che sia così ed è un prodotto reale, un'opportunità reale e il futuro è reale per quelle persone che lo vedono, lo afferrano e vogliono cambiare le cose in meglio. Rain 2.0 è arrivata e noi siamo entusiasti di farne parte e guardate cosa accadrà nei prossimi 5-10 anni. Questo team di leadership che è qui con gli strumenti giusti, il sistema giusto e il prodotto giusto è l'incredibile piano dei compensi che paga le persone per aver fatto la cosa giusta. È tutto perfettamente confezionato con un bel fiocco che vi aspetta. Rain, dai un'occhiata. Hey!